Mi? Neanche avevano mangiato e neanche avevano congelato. Ho dato i vieti, le ho dati via tutte. Andiamo in freezer? Queste qui? Sono dentro? Non lo so. Ah, ma sono quelle per fare il minestrone quelle là. Ma perché? Sono per fare il minestrone quelle là. Quando mai facciamo il minestrone? Invece queste qui sono le ultime, le tengo io. Do via tutto, poi basta dar via, basta dar via. Si dà via più niente, si mangia, si ritira e si mangia. Domani faccio venire il Fabio, oggi mi ha telefonato e ha detto che non le telefono mai. Perché non mi telefono mai? Perché forse voleva venire a pranzo e che io non ci avevo preparato niente. Né per te né per lui e allora ho stata zitta. Domani ci dico se vieni a pranzo.